Non ti ho mai tradito, per ora. Non farle mettere le mani addosso da chiunque. Lei ti ama, ti chiede solo ciò di cui ha bisogno. Un cambio a odio. Nelle concessionarie e officine Fiat, fino al 15 aprile, cambi olio e filtro a partire da 49,90 euro. Se tu la ami, lei ti ama.